Le bare orazioni al Signore secondo le intenzioni di Papa Francesco per cambiare il mondo con la forza dell'amore. Con questi propositi è stata presentata la nuova versione di Click to Pray, l'applicazione mobile lanciata nel novembre 2014 dall'apostolato della preghiera del Portogallo per aiutare i giovani a pregare con il Pontefice. Il progetto, al momento disponibile in inglese, francese, spagnolo e portoghese, è stato illustrato contestualmente all'iniziativa 24 ore per il Signore e consente non solo di pregare secondo le intenzioni mensili di Papa Bergoglio, ma anche di chiedere preghiere e unirsi ad altre richieste. Con noi il padre gesuita Frederick Fornos, direttore internazionale dell'apostolato della preghiera e del movimento eucaristico giovanile. Molti cattolici che non conoscono le sue intenzioni e sono intenzioni che sono preoccupazioni della Chiesa per oggi. Allora sì, la preghiera è essenziale, allora non fa tanto rumore come altre cose, ma è come l'amore, no? È qualcosa di semplice, invisibile, ma che c'è una fecondità molto grande. Allora sì, la preghiera è essenziale e per questo pregare con il Papa per la missione della Chiesa è una vera forza che aiuta la missione della Chiesa. L'apostolato della preghiera sono 35 milioni di cattolici, ma sono invisibili, perché è molta gente semplice che prega per la missione della Chiesa, che ci aiuta molto, ma che sono, per esempio, ero in Mozambique questi ultimi giorni, alla frontiera con Malawi, c'erano 2000 persone in un incontro, un raduno. era gente molto semplice, non hanno internet, non hanno le social network di oggi, ma è gente che ogni giorno prega per la missione della Chiesa. Allora questa applicazione è per che altri possano conoscere queste sfide per la missione della Chiesa e pregare per questo, ma anche per dare visibilità a questa rete invisibile di preghiera che ogni giorno in tutto il mondo sta portando la missione della Chiesa. L'iniziativa di cui Papa Francesco è stato messo a conoscenza lo scorso mese di agosto in occasione del centenario del MEG mette in evidenza la forza straordinaria della preghiera, una vera e propria missione che porta il fuoco dell'amore all'intera umanità e a cui il Pontefice tante volte ha fatto riferimento nei suoi interventi, come lo scorso 6 febbraio incontrando i gruppi di preghiera di Padre Pio. La preghiera allora non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore e nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel che ci serve. Se fosse così sarebbe mossa da un sottile egoismo. Ma io prego per stare bene, come se prendesse una aspirina. No, non è così. Io prego per ottenere questo. Ma questo è fare un negozio, non è così. La preghiera è un'altra cosa. È un'altra cosa. La preghiera è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio. Questa applicazione, lo che abbiamo intentato fare è uscire dalla indifferenza e entrare in una cultura dell'incontro, dell'incontro con gli uomini e donne di oggi che vivono difficoltà, soffrenze nel mondo. abbiamo intentato che ci può, che sia un'applicazione in relazione con altri, che ci è coinvolti in una rete di preghiera. Per questo la preghiera è sempre in relazione con molte altre persone che nel mondo stanno pregando allo stesso momento. Si può vedere questo, per esempio, una map, dove vedo quante persone sono pregando in questo momento. Non sono solo, sono con altri, di tutte le culture. E anche c'è la possibilità di scrivere la mia propria intenzione, se ho una difficoltà o qualcosa nella mia vita, per pregare per altre persone. E posso vedere quante persone di questa rete di preghiera del Papa stanno pregando con me. Allora è creare relazione, no? Relazione dove posso scrivere, dire a qualcuno, sto pregando con te, o vedere quante persone stanno pregando nello stesso momento.